E' già calcio vero dopo la passerella di sabato scorso Rigutino, gli Abaranto domani alle 18 affrontano il Cosenza sul neutro di Bastia. Test contro una formazione di Serie B, reduce da una stagione vissuta con emozioni forti, visto che la selvezza per i calabresi è arrivata dopo lo spareggio play-out con il Brescia. E' buon per le rondilelle che sono la prima squadra che dovrà essere ripescata dopo le decisioni di ieri del Consiglio federale. Per il resto tanto entusiasmo in casa Maranto e fiducia, piace questo nuovo Arezzo che sulla spinta della riconquistata Serie C ha ritrovato l'entusiasmo e la voglia di stare insieme sotto il colore del cavallino rampante. La squadra ancora deve essere completata e la caccia all'attaccante prosegue alla pari di un esterno che serve a completare l'apposito reparto. La premiata ditta Giovannini Cutolo studia le mosse anche se noto che in cima alla lista c'è proprio Ogunzei, attaccante reduce da una bella stagione in cui il di Foggia dove ha sfornato gol e assist contro la formazione calabrese indiani. Domani utilizzerà tutti i giocatori a disposizione, forse con la sola eccezione di zona, leggermente acciaccato. Sarà interessante vedere da chi sarà composta la terna offensiva. Pattarello e Gaddini hanno palesato già una buona condizione ma le maggiori curiosità saranno per Guccione e Iori che in questi giorni hanno imparato a conoscere l'ambiente a Maranto.